Un'altra notte di interventi nelle acque del canale di Sicilia. I mezzi impegnati nell'operazione di pattugliamento Mare Nostrum hanno infatti raggiunto numerose imbarcazioni, ormai alla deriva e cariche di immigrati. La nave anfibia San Giusto ha raggiunto due gommoni, entrambi con 97 persone a bordo. Erano sulla stessa imbarcazione, invece altri 100 immigrati raggiunti dalla fregata grecale. La zona in cui sono stati trovati è la stessa in cui è intervenuta la San Giusto, ovvero nelle acque a sud-est di Lampedusa. Con le condizioni meteo progressivamente sempre più favorevoli, gli sbarchi verso le coste siciliane diventano sempre più frequenti e lo dimostrano i numeri forniti dalla Marina Militare. Nelle ultime 24 ore, infatti, le navi hanno soccorso in tutto 596 immigrati a bordo di sei diverse imbarcazioni. Alle operazioni si è affiancata anche la motovedetta 202 della Capitaneria di Porto, che ha imbarcato 200 persone a bordo di un gommone a sud di Pozzallo.